Nel campionato di Serie C1 di rugby, il Rugby Rende mette a segno una robuante vittoria nei confronti della prima in classifica, fino ad ora imbattuto, il San Giorgio del Sagno. I ragazzi di Coach Bacci sono riusciti a sfoderare una prestazione incomiabile che esprime finalmente il grande potenziale del collettivo bianco-rosso. Già nei primi minuti del match, i rendesi hanno dimostrato di avere il pallino del gioco, dettando ritmi insostenibili per gli avversari e detenendo quasi esclusivamente il possesso dell'ovale. Come denota il tabellino fermo sul 27-0 al termine di un primo tempo quasi perfetto in cui sono andati a meta oltre al capitano Rossi, Luciano Brogno, pilone sorprendente, autore di una doppietta personale e di una prestazione davvero sopra le righe grazie alla propria versatilità e affidabilità, e Vito De Napoli, che anche in questa occasione ha dato prova della sua esuberanza tecnica sfoggiando una performance grintosa ed efficace. Soltanto nella seconda frazione di gioco, i segniti si sono adoperati per tentare di cambiare il corso di una partita altrimenti a senso unico, ma alle due mete, loro concessi, i padroni di casa hanno prontamente risposto con altrettanti punti, chiudendo la sfida sul 39-10. Decisamente soddisfatto il presidente allenatore Bacci, per quanto visto prestazione di grande valore della squadra, abbiamo faticato a ritrovare la nostra identità, ma oggi siamo finalmente riusciti ad esprimerci. È una vittoria del gruppo, dichiara a fine gara, soprattutto di chi gioca poco, ma è sempre presente agli allenamenti e permette la crescita della squadra. In questa partita, a proseguito Bacci, i ragazzi hanno superato le difficoltà con il fisico, con la testa e con il cuore. Un grande cuore bianco-rosso, scuola Regbirende. In evidenza, in questi 80 minuti, gli innesti più giovani del vivaio rendese, Pasquale De Marco ed Elia Siciliano, quest'ultimo autore di ben 5 calci piazzati su 6. La società punta da sempre sui giovani, vero punto di forza della Regbirende, e non nasconde il proprio orgoglio in occasioni simili, come sottolinea la dirigente Katia Ruocco. Abbiamo molta fiducia nel futuro e nei ragazzi che con noi stanno disputando i campionati juniors di partinenza, occasione per loro di crescita e gratificazione dopo gli allenamenti settimanali.